Ciao amore mio, oggi è un giorno importantissimo, non solo perché ci sposiamo, ma perché 27 anni fa sei nata tu, la donna che mi ha reso l'uomo più felice del mondo. Se fai caso, l'ora dell'orologio è ferma sulle ore 11, perché è da lì che oggi inizierà un nuovo ciclo della nostra vita di coppia. Sai quando ti dico, amore all'altare ti aspetto solo 15 minuti, ma non è vero che smetterei lì se ne sentate tutta la vita, perché ora non saprei proprio come andare avanti e non preoccuparti se piove, se ti vuole, se ti ragioni tutto di più, ma pensa a noi, che da oggi in voi, io e te siamo ufficialmente una famiglia, andiamo da impazzire amore, non so se riuscirò a parlare più di quanto sarò emozionato nel vero. Per il momento te lo dico qui, sì, voglio essere tuo marito, ti aspetta adattare vita mia ad altri avuti, devo anche morare. Il contrario di io è noi, mostrare il contrario dell'io, dell'egoismo, il noi si costruisce insieme, si cammina insieme, si decide insieme. Io, Federico, accolgo te, Giulia, come mia sposa. Io, Giulia, accolgo te, Federico, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel tuo nome, nella salute e nella malattia, e di amarti, 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 tutti i giorni della mia vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.